signori stasera siamo su day of infamy insurgesi ma non insurgesi panico insurgesi ma nella seconda guerra mondiale solo io massi perché l'euro e babbo non ce l'ha io ho approfittato dei saldi estivi bravo hai fatto bene e andiamo in dog red caldo della madonna oh ma red dog lo sbarco in normandia allora ci avevo preso esercito sbarchiamo no no io voglio fare difendere qui sto caricandogli no come fai ad essere più veloce di me a caricare no non mi dà la german mi dà solo america riesci ad uscire a entrare l'america nel cuore ci sono ok perfetto prendo assaltatore dove sei? ma sei un macello qua facca voi ma se dove sei? devo dire che eh devo ancora spawnare allora non so battissimo di fuoco per dei vinfamy mi dicono no america oh cesu dritti dritti in normandia dritti dritti qua dove sei? dove sei? dove sei? sto correndo verso A ho visto che è dietro uno sherman però in fiamme ok ti ho visto mi sparo ah mi han preso dove sei tu? sei ancora in partita? eh no mi hanno ucciso tu chi stai guardando? sniper che cerca a fare qualcosa ma non vede niente uno che è morto adesso uno sniper uno uno no il pitiero probert si che è dentro al bunker lui è l'unico che può fare qualcosa lui è l'eroe lui è l'eroe oh my gee these invisible people oh ha sparato ha sparato due volte anche la terza vuole sparare incredibile ma non c'era uno in quel bunker lì infatti c'è il cecchino eh infatti in quel bunker di fronte c'è il cecchino si sta cagando in mano è entrato con la pistola va oh mamma mia niente ah ma è morto così torniamo dal pitiero ci rimane il nostro blackwatch blackwatch eh eh ci ha pensato un momento no ha finito no ha morto malissimo niente la spiaggia non è stata conquistata siamo purtroppo entrati che era già partita la prima ondata questo non cambia le cose questo non cambia che ci riproveremo ci riproveremo saremo nella seconda ondata stavolta oh io voglio entrare oh andiamo nella Wehrmacht eh niente Wehrmacht next è meggeschutz e sto un troppo sto un troppo vieni con me apply vabbè bunker sulla destra subito oh sì ecco voi dovete capire che quando giocate a questo gioco con i tedeschi e fate questa mappa cioè ma non avete idea di quanto sia bello infilarsi da sopra con l'MG me ne frega un niente del voto nella prossima mappa oh sì sì oh sì sì dai se non mi sciottano quei cecchini perché altrimenti ciao tanto dalla destra non arrivano questo qua al bordo della mappa prendetene un po' prendetene un po' c'è uno dietro al carcassi in sciarmi in fiamme uno lì mc oh che cosa è qui troppo fumo troppo fumo tu spara rispondo al fuoco rispondo al fuoco rispondo al fuoco bastardi cambia posizione ma attacco qua di fianco a te lo vedo io no aspetta non lo prendo non lo prendo non li vedo non li vedo rato sarebbe indietreggiare per andare a recuperare i nostri compagni qualche uomo di buona volontà non indietreggia mai lo prendo come un no me l'ho ucciso cazzo hanno uno sniper io sembra un momento perfetto per sboccare fuori almeno un paio li ho presi credo credo lo scopro subito guarda tab due l'ho preso si prende panzer jäger perché questo qualche anticchia cosa fa non so cosa cosa fa cosa fa mi sa che hanno preso la spiaggia fami niente io sto aspettando ok ci sono entrato andiamo boss vieni vieni che mg ha bisogno di piazzarsi da qualche parte per far vedere a tutti quanto è bello sparare i proiettili traccianti verdi come in star wars esatto perché l'impero compisce ancora non è altro che lo sbarco in normandia non è altro no il quarto rai ero appena arrivato ma c'era qualcuno dentro vieni qua vieni qua bastardo no come ha fatto a uccidermi con la mp40 era già lì dentro per caso era dietro quell'angolo lì perfetto torniamo a prenderlo perché guardare bene ma non guardare meglio no questo è un disertore un disertore infame guarda che guarda si attenzione si è entrata è una zona proibita sta guardando i nostri i loro gli americani era la spia lo sapevo cosa fa dove va perché adesso guardiamo gli altri nostri uomini ahia hanno preso un altro con la mp40 è rimasto solo questo qua col coltello quindi spawniamo tutti insieme si che bello via 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 vieni vieni questa struttura è bellissima porca vacca ci ha lanciato un razzo una granata oh mio dio mi hanno massacrato non ho fatto un tipo d'altare la testa non so tu non hai visto quello che ho visto io no dai stavo per sparare io oh si sono sparato adesso anch'io bella così bella mi piace vieni con me vieni con me ah cosa c'era tipo 20 americani qua sopra vacca boia c'era tipo un gruppo di 5 americani gli ha lanciato un razzo sono platiche a tutti oh voglio passare tutti ma io non riesco a sparare dritto perché ho un'artiglieria la mia gamba ah no che abbiamo preso l'artiglieria la mano ok bisogna tornare lì cosa succede anche dentro ci e le navi che ci bombardano scoppia un sacco di roba non è giusto guarda questo col panzer shrek dov'è questo è un teresco pericoso è lì che li aspetta questo è un teresco pericoso dica da rigare è lì che li aspetta lo chiameremo il trombone e oltretutto guardalo 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 io esco a sinistra sto correndo che senti sono dietro hello is me no mi potrai seguire no ci sparano occhio occhio hanno preso qualcuno dei nostri sono dentro sono dentro bunker cazzo le lancia fiamme vattene ad arrivare qui ho sparato completamente a caso ma se sono dentro ci ho la granata aspetta cazzo ce l'ho davanti davanti dove? all'ingresso che brutta situazione che è morto ce l'ho davanti a noi ci sono davanti a noi lì aspetta io cerco di liberare il bunker ci ormai l'abbiamo persa rimando a difender di ah mi ho ucciso sotto cosa faccio cosa faccio cosa faccio sto qui cosa faccio aspetta che cerco cosa faccio sotto sono tutti sotto sono tutti sotto cazzo eh cristo cristo me l'ho visto me l'ho visto lo sapevo non dovevo sbucare da lì ah no abbiamo più rinforti eh no io sono morto miravane bat 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 tok sauce e dr move cosa fa dr move i due eroi sparra dr move l'ha mancato no dr move perché no la germania non ha saputo difendere la germania ha fallito proprio come nella storia con questo fallimento speriamo che comunque vi abbia intrigato un po' il giochino se vi piace lo riportiamo guarda most surprise non sono io 14 un applauso mamma mia most kill grazie a tutti